Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Se non vi siete visti il video il primo Correte a vederlo, ci sono un casino di novità Ehm Ehm Ragazzi, se non vi iscrivete al canale Ma No, ragazzi, problemi di connessione No, dai Mi hanno Ragazzi, che è successo? Vabbè Comunque, se non vi iscrivete al canale Non condividete il video Oh, che dauro Ci siamo intesi? Comunque, mi son sempre più preparato A box opening, se non sapete che cos'è Andate subito a vedere il video Perché se non avete visto il video, se tu non sembra Ok Adesso vi mostro un metodo Per fare tante coppe, però dovete avere Una buona connessione, non come me Allora Vediamo Un po' Vediamo Allora Dovete camperare Così E intanto sparare agli altri Così Vedete Camperare E fare così Magari vi trovate pure un cespuglio Sarebbe meglio Non vi avvicinate mai ai tank Fate così 8 bit è il modo migliore Per questo metodo Così Io ho fatto un casino di prime posizioni Però ho fatto anche più 3 Più 2 Quindi ho Ho fatto tante coppe Per portare 8 bit Dal 12 Al 15 Ancora sta il 14 Però penso che in questa partita Lo porto al 15 Ragazzi sto cercando di arrivare Pure alle 10.000 coppie Così ho pure una mega cassa Nel box opening Cercando di farvi sorridere In questo momento Ma non penso c'è un insetto in casa Dai E poi pure se c'è Che succede La uccidiamo No? Easy Scusate L'umus maxima Alexa Quando ti dico l'umus maxima Tu accendi il lampadario Purtroppo non trovo la risposta Alla domanda Alexa Quando ti dico l'umus maxima Tu accendi il lampadario L'ampadario non risponde Verifica connessi Verifica l'alimentazione Vabbè L'umus maxima Vabbè Yep 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 Ab �äd име Ab 배�la Abarı Ab 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 B Ab 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 Sì l'ho ucciso Ok Piper è difficile ragazzi perché Tanto fa la ultima Ok Ce l'abbiamo fatta ragazzi La tabetta Il grado 15 Questo Ho fatto Cioè non è stato difficile Difficilissima Con questo metodo Spero che questo metodo Per fare coppie vi sia piaciuto Ve l'avevo già detto che non era Non era un bug Chissà che cosa E ragazzi incredibilmente posso dirlo Che mancano solo tre brother Da portare al grado 15 Tutti gli altri sono Grado 15 In su Questi di su non lo porterò mai Quindi inizierò ad usare Questi Allora facciamo Qualche partita Magari così Con questi qua La facciamo Con qualcuno Che deve essere Più alto Anzi no ragazzi No Non voglio rischiare Spero che il video Vi sia piaciuto Vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Condividete il video Se no Avete a cadavra E andatevi a vedere Il video di ieri Se no Sei che tu Sempre Ciao Ciao